Gli ingredienti per un bel mercoledì c'erano davvero tutti. Un Paolo Borsellino è pieno zeppo come un uovo, tifosi festanti, cantanti e alla fine pure festeggianti. Una squadra, quella nero-verde, il presente del calcio a 5 cittadino in rosa. L'altra, quella molfettese, il recente passato del futsal bitontino. E, diciamo la verità, nessuno si è annoiato e guai a dire che era una semplice gara di Coppa Puglia. Perché Bitonto Molfetta è stato tanto, tutto di più. Alla fine, a godere, è stata la corazzata di mister Lorenzo Genchi, che ha rifilato all'avversaria tre reti, una più bella dell'altra, e ha centrato l'ottavo successo in altrettante partite disputate da inizio stagione. La contesa, però, dicevamo, è stata davvero di un'altra categoria. Azioni da una parte e contrazioni dall'altra, lotta su tutti i palloni, tensioni che si tagliava a fette, scontri duri, continui sussulti che hanno fatto palpitare. Il primo tempo, poi, è stato tutto sul filo dell'equilibrio, e a rompere il ghiaccio è stato il guizzo di Carmela Anaclerio. A inizio ripresa, poi, il Molfetta dell'ex Roberta Varano ha tentato il tutto per tutto, attaccando a testa bassa. Ma, nel suo momento migliore, è arrivato il raddoppio nero-verde, con il furetto Barbara Minafra. Il match è finito lì, praticamente, con le ospiti al tappeto e le padrone di casa, ancora a segno, con il capitano Flora la Rossa, che ha sbagliato pure un tiro libero. Ma sono dettagli in una grande serata per il futsal in Rosa-Bitontino. Domenica, però, è già campionato, con la non semplice trasferta di Monopoli.